La squadra cliente mi sta chiedendo come fare la salsa al caramello salato, ci dai una mano? Perché no? Allora questa salsa non è difficile, ci vuole solo un'accortezza Disporre lo zucchero poco per volta, farlo sciogliere e mescolarlo solamente quando la quantità presente sarà sufficiente per sciogliere quello presente Poi incorporiamo il burro, la panna, il sale e voilà Per qualunque dubbio trovi la videoricetta completa sul mio canale youtube